della Beata Vergine Maria. In Maria, pensata da Dio sin da prima della creazione, ci ha offerto un sublime modello di santità. Nella Madre del Salvatore, la nostra Avvocata di Grazia, ha inizio l'umanità nuova, redenta da Cristo, e siamo chiamati a contemplare le meraviglie dell'amore di Dio. Celebrando il mistero di questo singolare concepimento di Maria, anche in noi cresca e si rafforzi il desiderio di accogliere il Signore, camminando nella fedeltà alla parola e riconoscendo il primato di Dio che sempre, anche oggi, opera in noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Grazie a tutti. Fratelli e sorelle, Fratelli e sorelle, in questa cornice di festa, noi iniziamo anche il giorno della domenica, il primo giorno della settimana, e quel giorno dopo il sabato del riposo nel sepolcro risuonò l'annuncio dall'alto che è al fondamento della nostra fede. «Voi, voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite, vedete, vedete il luogo dove era stato deposto, e presto andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Cristo Signore risorto, prendiamo grazie a te. «Gloria, gloria'' «Gloria! Gloria in excercis Deo! Gloria, gloria in excercis Deo! Gloria in excercis Deo! agli uomini amati dal Signore. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, ambi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, ambi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amin. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo, o Dio che in previsione della morte redentrice di Cristo hai preservato la Vergine Maria fin dal primo istante da ogni macchia di peccato e così hai preparato al Figlio Tuo fatto uomo una degna dimora. Dona anche a noi di venire incontro a Te in santità e purezza di vita. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Benedici mio Padre. La parola profetica ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettura dal Libro della Genesi In quei giorni il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse «Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» rispose l'uomo «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna «Chi hai fatto?» rispose la donna «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti scaccerà la testa e tu le insiederai il cancagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia. Iscriverò Rahab e Babilonia, fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, la costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati e Lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia. Il Signore registrerà nel Libro dei Popoli. La costui è nato e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia. Benedicimi, Padre. La parola apostolica ci porti al cuore del mistero. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. in Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio. Maria, sei piena di grazio, sei madre di Cristo Signore, beata fra tutte le donne. Alleluia, 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 alleluia. Per l'amore, alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito Rettura del Vangelo secondo Luca Gloria a te, oh Signore In quel tempo, l'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Parola del Signore Gloria a te, oh Cristo Parola del Signore Parola del Signore Parola del Signore Guardando al mistero dell'Immacolata Concezione, ad esempio, di Maria, la prima tentazione sarebbe di dire troppo. Il linguaggio teologico Parola del Signore 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 storia Dio aveva già pensato di vincere la tentazione di opporsi a Dio stesso, mandando nell'umanità, creata proprio con l'intelligenza, il sentimento, la capacità di scendere negli abissi della conoscenza, come interlocutrice del suo progetto, come risposta intelligente al progetto originario, quello di far capire il mistero del Figlio di Dio, che è il Figlio dell'uomo, che è il punto di partenza per tutta la creazione. L'astrofisica e le teorie matematiche moderne ci aiutano a capire che il nostro pensiero e il nostro mondo sono questo pensiero e questo mondo, non gli unici possibili. La formula della teoria della relatività di Einstein è una realizzazione con dei parametri matematici precisi, spazio-tempo, i nostri, che non valgono più in un altro mondo, al di fuori del nostro universo. Questo ci apre a un mistero di mondi, anche il mondo di Dio, se mai potessimo esprimerla così, questa idea, di cui non conosciamo nulla. E chi ne parla, ne parla semplicemente per fantasia. Il mistero dell'immacolata concezione, come i grandi misteri della vita, della fede, ci spingono oltre il nostro linguaggio quotidiano e di fatti esprimono una realtà che è la realtà stessa di Dio, il progetto di Dio, prima della creazione, dopo la creazione, quando tutto sarà riportato nelle mani di Dio. Bellissime immagini, ma che cosa significano? Che cosa vuole Dio da noi? Perché siamo in questo mondo? Con quale compito dobbiamo vivere in questo mondo? E dove andremo? Sarebbero tutti i desideri da esplicitare e da completare, ma il nostro linguaggio si arrende di fronte a questo inconcepibile per la nostra mente. C'è quella frase usata per esprimere l'annuncio dell'angelo a Maria che, con tre parole, sintetizza tutto questo mistero che noi vogliamo alludere celebrando l'immacolata concezione. Il termine, i termini greci, perché il Vangelo è stato consegnato a noi in questa lingua, poeticamente usa la assonanza dei tre termini. Assonanza, tre cose diverse in realtà. Perché è un messaggio di gioia, non di paura. È un messaggio che rilancia oltre la morte quella vita che abbiamo ricevuto in dono senza chiederla e che ora però è responsabilità nostra portarla verso il suo compimento. Gioisci di questo disegno grandioso e la singolarità di Maria non riguarda solo la sua maternità del Figlio di Dio, ma riguarda tutta la nostra umanità. Gioisci dell'essere partecipe di questo grande disegno. Il secondo termine che potremmo tradurre è tu che sei stata resa oggetto di gratuità. Tu che sei stata gratuitamente amata. E questo vale singolarmente per Maria, la madre del Redentore, la madre del Figlio di Dio, la madre di Gesù di Nazareth, che è il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. Ma questo è detto anche di ciascuno di noi. Noi siamo fatti oggetto della gratuità di Dio, dalla nascita fino alla morte. nascita non chiesta, morte non voluta, in cammino verso l'incontro con Dio, piena di grazia, pieni tutti voi, tutti noi, allo stesso modo della gratuità di Dio, per vivere in risposta al suo disegno. Il Signore è con te, Kyrios, il Kyrios. Kyrios in greco traduce il tetragramma sacro, innominabile. In greco, invece, Kyrios ha un significato, Signore, ma non vuole cancellare l'innominabilità di Dio. Dio è innominabile e Dio è invisibile, è irrappresentabile. Dio è Dio, è di un altro mondo. E noi diciamo, il Signore è con te, lo dice l'angelo a Maria, ma lo dice, lo diceva anche nel racconto dei giudici, l'angelo a Gedeone, portando il suo saluto di vittoria a questo eroe. Il Signore è con te, il Signore è con te, non è un augurio, è un'affermazione. E la madre porta con sé, in sé, colui che è il figlio di Dio, il Redentore. Ma noi, ugualmente, riceviamo questo annuncio come il fondamento della nostra fede. Il Signore è con voi, lo diciamo sempre, come saluto liturgico. Il Signore sia con voi, è con voi. E noi dobbiamo vivere di questa sola speranza di camminare verso di Lui. Ecco perché ci sentiamo di ripetere nella preghiera quella benedizione che l'Apostolo ci ha consegnato e l'abbiamo sentita come pagina dalla lettera agli Efesini. Anche noi, come Maria, siamo stati scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati, predestinandoci, cioè dandoci come meta, prima ancora che esistessimo, predestinandoci a essere figli, nel Figlio unico, Gesù. E' il disegno d'amore della Sua volontà che ci ha gratificato proprio nella storia del crocifisso risorto. Carissimi, vivere la festa dell'Immacolata Concezione è per un momento chiudere gli occhi a tutta questa vicenda umana e aprire il cuore all'impossibile visione di ciò che sarà il compimento della gloria. E' proprio forse per questo che San Paolo VI concludendo il Concilio Vaticano II nella festa dell'Immacolata del 1965 diceva così Mentre invochiamo l'intercessione dei Santi Giovanni Battista e Giuseppe patroni del Concilio Ecumenico dei Santi Apostoli Pietro e Paolo fondamenta e colonne della Santa Chiesa e con loro di Sant'Ambrogio di cui oggi celebriamo la festa quasi in lui collegando la Chiesa d'Oriente ed Occidente e parimente e cordialmente imploriamo la protezione di Maria Santissima Madre di Cristo e da noi chiamata è il titolo che il Concilio Vaticano II ha creato ad hoc proprio per noi oggi Madre della Chiesa e con una voce sola con un cuore solo rendiamo grazie e diciamo gloria al Dio vivo e vero al Dio unico e sommo al Padre al Figlio e allo Spirito Santo e così sia grazie a tutti ci alziamo e recitiamo l'antifona dopo il Vangelo sei benedetta dal Signore Dio o Vergine Maria tra tutte le donne della terra tu sei la gloria di Gerusalemme la gioia di Israele l'onore del nostro popolo fratelli e sorelle affidiamo all'intercessione della Beata Vergine Maria le preghiere e le intercessioni che eleviamo al Dio Eterno Ascoltaci Padre Buono Ascoltaci Padre Buono Padre della Grazia che ci doni di contemplare Maria Immacolata rendi certa la speranza della tua Chiesa e sostieni il cammino dei credenti verso la Santità ti preghiamo Ascoltaci Padre Buono Padre di Misericordia alimenta nei cuori il desiderio del bene concedi alla società civile di superare la logica dello scarto della prevalicazione e della divisione ti preghiamo Ascoltaci Padre Buono Padre di ogni consolazione conforta i fratelli e sorelle che soffrono guardando a Maria Madre della Speranza trovino serenità e sollievo ti preghiamo Ascoltaci Padre Buono Padre di immensa tenerezza rendici attenti all'ascolto della tua parola e donaci di saper accogliere il tuo figlio Gesù ti preghiamo Ascoltaci Padre Buono di ogni potente ed eterno che hai donato a Maria la grazia di essere l'unica tra i figli di Adamo preservata da ogni macchia lavaci dalle nostre colpe e fa che possiamo offrirti una vita immacolata per Cristo nostro Signore Amén Sia pace a tutti voi O Padre Clementissimo accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo figlio Amén Padre Clementissimo accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo figlio Amén 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 Uniamoci a tutta la Chiesa con le parole della nostra tradizione esprimiamo il mistero di salvezza voluto dal Dio Creatore e Salvatore Credo in un solo Dio Padre Onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture è salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà amine questa è la nostra fede questa è la fede della Chiesa accetta o Padre il sacrificio di salvezza che ti offriamo con gioia nella festa dell'immacolata concezione di Maria la materna intercessione della Vergine senza macchia ci ottenga di essere liberati da ogni colpa per Cristo nostro Signore amén il Signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore prendiamo grazie al Signore nostro Dio è cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio omnipotente ed eterno tu hai preservato la Vergine Maria da ogni ombra di peccato originale perché diventasse degna madre del tuo verbo in Lui creatura di intatto splendore trova inizio la Chiesa essa è sposa di Cristo come Maria senza macchia e senza rug da lei la Vergine purissima sarebbe nato il figlio di Dio l'agnello innocente che toglie i peccati del mondo tu l'avevi prestina predestinata come modello di santità e avvocata di grazia per tutti i redenti e noi tuo popolo a lei devoto uniti ai cori degli angeli esultando proclamiamo Padre la tua gloria santo 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 il signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni di grazie e la tua gloria e la tua santo nell'alto dei cieli Benedetto colore di te, nel nome del Signore, Rosanna e l'alto dei cieli. Noi ti odiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'umanità a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico Creatore, esercitasse la Signoria su tutte le creature. E quando per la loro disobbedienza gli umani persero la tua amicizia, tu non li hai abbandonati in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto a Israele la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a portare a compimento la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, Venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amossino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede Annunciamo la Tua morte, Signore «Proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta». In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre e la morte di Cristo, la Sua discesa agli inferi, proclamiamo la Sua risurrezione, ascensione al cielo, dove siede alla Tua destra, e in attesa della Sua venuta nella gloria, ti offriamo il Suo corpo e il Suo sangue, sacrificio a Te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che Tu stesso hai preparato per la Tua Chiesa. E a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo, a lode della Tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi Ti offriamo questo sacrificio, il Tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i Presbiteri, i Diaconi, coloro che si uniscono alla nostra offerta, quanti sono qui riuniti e l'intero Tuo popolo insieme a tutti quelli che ancora Ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del Tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali Tu solo hai conosciuto la fede. Padre di misericordia, concedi a tutti noi, Tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, Suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi, l'eredità eterna del Tuo Regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione, del peccato e della morte, canteremo la Tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale Tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Recitiamo l'antifona allo spezzare del pane. Il Signore, il Dio vivente, mi ha usato misericordia, ha rivelato al mondo la gloria di Sua Madre. Ti loderò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i miei nemici. E levando le mani verso il Padre che è nei cieli, animati dallo Spirito del Signore, crocifisso e risorto, cantiamo insieme. Padre nostro che si è felice, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu ha la potenza e l'amore di sé Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito. Amén. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta su di sé i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. e io sarò salvato. Amén. Grazie a tutti. 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 Buona domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona festa. Buona festa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi benissimo. Vi benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.